musica 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 ma è una fatica? è inutile eh? avete il chiodo fisso mamma me non ci potete stare tranquilli con permesso chiedo su che qua stiamo venni qua su venni qua mi frega sempre il pelo incarnato beh non perdiamo tempo allora chiedo scusa questo è tutto e questo è tutto quattro chilometri e mezzo di ferramenta assortito questo mi serve e va bene allora paga i contanti o striscia? va bene che sono povero però umiliarmi così va bene striscia chiedi a cosa e lo fa anche per davvero mi striscia e anche bene complimenti e sa che le dico e sa che le dico che lei mi ricorda anche le avventure di Giulio Verme dove ero una daxè la mando in una striscia non si preoccupi che è lì e che le dico che lei mi ricorda anche